C'è un altro ministro che è sulla graticola, il ministro Anna Maria Cancellieri, per queste telefonate, per intervenire o comunque segnalare il caso di Giulia Ligresti. Anche lei rischia di dimettersi da Cancellieri? Ma io mi auguro che ciò non avvenga, perché del caso... Voi domani come voterete? No, mercoledì ci sarà la mozione. Noi voteremo a favore del ministro Cancellieri che ha chiarito in maniera esemplare la sua posizione intervenendo alla Camera al Senato due settimane fa. Non è indagata, no ha spiegato per filo e per segno, non è indagata, si è fatta carico, ha ascoltato la situazione di una donna carcerata in gravissima difficoltà. Era una sua amica però, una amica di famiglia, questa cosa, quantomeno inopportuna. Ma ha anche spiegato che il ministero della giustizia, fortunatamente, si occupa di decine e decine di casi ad ogni mese. Quindi c'era dentro Giulia Ligrespi, nome noto, amica del ministro Cancellieri, ma c'erano dentro tanti signori X e Y, sconosciuti ai più, che in carcere subì. E poi soprattutto non ha fatto pressioni sui magistrati, ha semplicemente chiesto notizie. Informazione, non è neanche inopportuna questa chiamata che ha fatto. Allora, stia a sentire, andiamo alla sostanza della vicenda. Se tu sei ministro della giustizia, chiunque ti segnala l'esistenza di un detenuto o di una detenuta, per di più di carcerazione preventiva, non aveva nessuna condanna, che sta male, che ha istinti suicidi, che rischia appunto condizioni gravissime, io dico che è dovere del ministro della giustizia segnalare questo caso. Il punto è che poter accedere a un potente è un privilegio in questo caso. Ma come le dicevo prima, il ministero della giustizia si occupa quotidianamente di casi come questi che gli vengono segnalati. Purtroppo non riesce a occuparsi di tutti i casi, per cui assistiamo ai suicidi di tanti detenuti. Questo significa appunto che le carceri italiane costituiscono un problema. Ripartiamo con lei dopo la pubblicità, con Romerto Formigoli.